Nella serata di gala al Teatro alla Scala di Milano, Leo Messi si aggiudica il premio The Best FIFA Football Awards riservato al miglior calciatore del mondo. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da commissari tecnici, capitani, giornalisti e tifosi. Battuti, l'eterno rivale Cristiano Ronaldo è il grande favorito della vigilia, Virgil van Dijk. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questo premio, ha detto il fuoriclasse del Barcellona, giunto al suo sesto titolo, un record assoluto. I premi individuali per me sono secondari, tra gli altri premiati è anche il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, come miglior allenatore, vincitore dell'ultima Champions League, che ha avuto la meglio su Pepe Guardiola e Maurizio Possettino. Come miglior portiere trionfa una vecchia conoscenza del calcio italiano Elison Becker, che ha preceduto Ederson nel Manchester City, e Marc-André Ter Stegen del Barcellona. Con il gol che ha sbloccato il match contro il Bologna, il difensore della Roma, Alexander Kolarov, ha raggiunto quota sei gol realizzati su punizione da quando veste la maglia giallorossa, meglio di lui soltanto Leo Messi nei top 5 campionati europei. Il giocatore serbo è quindi sempre più protagonista nella Roma di Paolo Fonseca, che può quindi coccolarsi un giocatore che in estate sembrava in partenza e che invece è diventato a tutti gli effetti un punto fermo della rosa a disposizione del tecnico. Il periodico britannico The Sun riporta una notizia secondo cui Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, avrebbe speso 15.000 sterline per acquistare un Rottweiler da guardia. Il giocatore, che non ha mai avuto rapporti tigliaci con i tefosi dei Red Devils dal suo ritorno in Inghilterra nel 2016, dopo l'esperienza alla Juventus, starebbe aumentando le misure di sicurezza personale. Necessità che si è fatta ancora più urgenti dopo l'apparizione di una scritta che recita Pogba Out fuori dal centro sportivo dello United. Nel turno infrasettimanale di Serie B, il Perugia affronterà il Frosinone. Queste le parole del tecnico del club Umbro, Massimo Oddo. C'è il Frosinone, giochiamo col Frosinone. Anche perché poi arrivare alla Juve Stabbia tutti pensano che la Juve Stabbia è facile e poi ci freggiamo. Quindi c'è il Frosinone, ci concentriamo sul Frosinone, conosciamo i pregi e i difetti di questa squadra e cercheremo di fare di tutto per vincere questa partita e di migliorare sotto tutti gli aspetti. Non dobbiamo avere la pressione che c'è stata con la Juve Stabbia di dover vincere a tutti i costi, noi dobbiamo crescere. Il campionato è lungo, ci vuole continuità, bisogna perdere il meno possibile, bisogna fare punti e poi c'è tutto il tempo per migliorare perché c'è da migliorare tantissimo. Noi in questo momento non dobbiamo focalizzarci sul fatto di andare in campo per vincere, noi dobbiamo andare in campo per dare tutto quello che abbiamo e per mettere in pratica tutto quello che prepariamo durante la settimana. Il risultato è una conseguenza. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.